1 Hai tutte le carte per vincere 2 2 3 3 5 6 6 7 8 9 10 13 14 15 15 16 15 16 16 17 18 21 23 23 24 25 25 25 25 25 25 26 27 27 28 30 30 31 31 32 33 32 33 33 Grazie a tutti. Grazie a tutti.